triz e paolo hanno organizzato una piccola cena una festa di carnevale c'è anche il cognato eduardo tavassi è sembrato che fosse quasi un impegno da pagare una punizione in doggy impegno quello che stasera e poi lì una bella festa in maschera o meglio una cena comunque si sono divertiti tantissimi bravo